L'aumento del prezzo dell'energia è stato il tema frequente nella sessione di febbraio del Consiglio Provinciale di Bolzano. Alle relative interrogazioni d'attualità di SVP e Timcaa, l'assessore Vettorato e il presidente della provincia Compatcher hanno risposto che il tutto nasce da una crisi geopolitica a livello europeo, dal maggior consumo di gas della Cina e dalla siccità e che il decreto sostegni del governo è penalizzante per l'alto adige che punta sulle rinnovabili. Ogni nazione ha un soggetto unico regolatore in Italia a Rera e istituire un autore di locale è molto difficile. Approvate anche due mozioni sul tema, quella del Timcaa per un uso efficiente ed economico dell'energia tramite l'energy contracting e quella del Freiheitlichen ed SVP per un tavolo con i principali attori del settore elettrico altotesino che valuti soluzioni migliorative. Molte domande hanno riguardato anche la situazione pandemica in merito alla quale lo stesso Compatcher, l'assessore alla sanità Widman, che ha esplicitamente ringraziato tutti coloro che lavorano in ambito sanitario per l'enorme sforzo, hanno riferito di un probabile passaggio ad una fase endemica del virus, di un miglioramento della situazione dei ricoveri in alto adige e dell'importanza degli screening per garantire le elezioni in presenza. La fine dello stato d'emergenza, prevista a livello nazionale il 31 di marzo, non farà decadere tutte le misure di sicurezza in quanto alla durata del Green Pass è limitata anche in caso di doppia vaccinazione e guarigione. L'Aula ha quindi approvato le mozioni di Enzian, Südtiroler Freiheitlichen e Perspective für Südtirol al fine di rendere riconoscibile con cartelli l'area sensibili delle Dolomiti Patrimonio Unesco, quella del Gruppo Verde per uno studio su vantaggi e svantaggi ecologici delle estrazioni di torba, quello del Gruppo Verde ed SVP per un opuscolo informativo sul referendum sulla legge sulla democrazia diretta prevista a maggio. Approvati per la maggioranza, un voto della SVP rivolto a Governo e Parlamento per un bonus esentasse per il personale infermieristico assistenziale, una mozione della SVP per facilitare lo svantimento di pneumatici usati ed un altro voto di SVP, Lega e Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Timca, rivolto a Governo e Parlamento per l'applicazione del Green Pass rafforzato alle sedute e riunioni a tutti i livelli politici.